Siamo pronti per cominciare, mi dispiace per questo discurito tecnico. Dunque, con questa miniatura vorrei aprire appunto la nostra conversazione, una miniatura che ho scelto perché illustra le premesse e le finalità del mio intervento di oggi, intervento che mira a mettere in evidenza il ruolo di Giosune nel poema Alla luce del viaggio in mare di Dante, poeta, navigatore della commedia. La prima domanda che vorrei fare agli studenti, anche se non li vedo, è quando sentono il nome di Giosune a cosa pensano? Non so se qualcuno può... Al vello d'oro. Al vello d'oro, benissimo, grazie. Cos'altro, qualcun altro? Le argonautiche. Esatto, le argonautiche, quindi il vello d'oro. C'è qualcos'altro? No, bene, allora, il vello d'oro e le argonautiche, quindi il viaggio che ci hanno raccontato appunto di Giosune in mare. Perfetto. Giosune è, come mostra eloquentemente questa miniatura, tutt'uno con la nave Argo, la nave costruita dall'ingegnere Argo, da cui prende il nome appunto l'imbarcazione. Come appunto suggerivano questi due studenti, che ringrazio, lo scopo della navigazione di Giosune è quella di andare a conquistare il vello d'oro. Quindi quello che definisce, in una forma di metonimia, la vicenda di Giosune è quella barca. Barca che serve appunto per andare a conquistare il vello d'oro. È perché con questa barca, questa grande nave, in realtà fa l'esperienza di navigatore colui che usò per prima sul caro in mare. Ed è proprio questa dimensione marittima di Giosune nel mito che lo vede protagonista che mi interessa, benché in una pagina di grande filologia, Ernest Curcius, a proposito del topos della nave e della letteratura europea... Non vediamo il schermo, Roberta, scusa se ti interrompo. Ecco, vedi, era troppo bello per essere vero. Allora, adesso vediamo. Dunque, c'era riuscita. Adesso? Ora sì, ora sì, perfetto, è tornato. Sì, quindi come giustamente suggerivano anche i due studenti o i colleghi, non so, ma prima, l'imbarcazione e la nave Argo e il vello d'oro vanno insieme in una forma appunto di intesa metonimica. E' proprio questa dimensione marittima, dicevo, è il mito che mi interessa. Benché in una pagina di grande filologia, di Ernest Curcius, in questo meraviglioso contributo che veramente invito gli studenti tutti ad avere a casa, questo volume di Curcius, nel suo studio del topos della nave della navigazione e della letteratura europea medievo-latino, Curcius sosteneva che non è la persona dell'eroe Giasone a portare Dante, a intraprendere il coraggioso viaggio attraverso il mare, ma un navigare nel Cesse Est, sconosciuto a Virgilio e scolpito nel cuore del poeta fiorentino. Non è per contraddire il grande romanista, ma ci sono precisi riscontri testuali che ci invitano a riconoscere la presenza di Giasone nel suo viaggio in mare e nel poema di Dante. Cioè, non sono d'accordo appunto che non sia la persona di Giasone a determinare il coraggioso viaggio in mare di Dante, perché appunto nel poema vari sono i riscontri testuali che ci invitano a pensare al contrario. Cioè, sostengo che quel viaggio in mare sia sempre presente a Dante come gli era presente quello di Ulisse, il suo Ulisse ovviamente la cui ombra di navigatore che con il suo folle volo naufraga nel voler attraversare le colonne d'Ercole di cui ci hanno detto già la professoressa di Blasi e più tardi ci dirà la professoressa Camaracciolo. A differenza di Ulisse però di cui è stato stabilito il ruolo nei confronti di Dante e all'interno del progetto poetico ed escatologico del poema, a mio avviso non è stato chiarito a sofficienza il ruolo che svolge Giasone in quanto navigatore, proprio come Ulisse. Tra l'altro come Ulisse, vedremo più avanti, condivide lo stesso posto all'inferno, cioè tra i fraudolenti. E non mi pare che sia un caso, perché nel poema nulla viene veramente lasciato al caso. Credo che dal confronto con Giasone e navigatore si possa spiegare la condizione soggettiva e poetologica di Dante, poeta, pellegrino e marinaio. Anzi, penso fermamente che Dante riscriva il mito di Giasone e del vello d'oro. Quindi è presente, fa finta, ma in realtà è presente il Giasone e navigatore e l'eccezionalità del suo viaggio in mare per conquistare il vello d'oro. In realtà, a mio avviso, Dante si presenta come nomello Giasone. Ha bisogno di Giasone perché come al solito Dante non fa nulla che non riguardi nulla o che possa, all'interno di questa grande organizzazione, concezione del poema, riguardare lui. Quindi qual è lo scopo di questa conversazione? È provocare un nuovo pensiero, una nuova associazione tra Dante e Giasone e Dante che si propone come novello Giasone. Quindi, a mio avviso, è lo scopo di questa conversazione. Lo ribadisco in modo tale che quello che verrà dopo abbia sempre come scopo quello di mostrare che Dante vuole mortificare l'impresa in mare di Giasone, mortificare il suo statuto di ero del mare e in particolare vorrei mostrare come Dante lo riduce a ombra, a una controfigura, una controfigura del suo viaggio, al suo viaggio, al suo viaggio in mare, rendendolo un tipo di navigatore di eroe fallito, destituito dalla sua pessima moralità per distinguere la sua navigazione da quella sua del poeta. Ovviamente, per portare avanti questa ipotesi di lettura, devo per forza di cose fare una premessa. Cioè, la mia ipotesi di lettura di un Dante pellegrino marinaio è preliminare, ma va a sfidare la lettura canonica del poema. E cioè, noi sappiamo tutti che Dante esce, deve provare a uscire dalla selva oscura e fa un viaggio a piedi. E' tanto vero che più di una volta, soprattutto quando procede il suo viaggio verso le parti più profonde di questo imbuto dell'inferno, vediamo che Dante ci fa notare la difficoltà del viaggio a piedi, dove deve mettere i piedi per non cadere. Però, è anche vero che nella mia ipotesi di lettura di un Dante pellegrino marinaio, Dante attraversa l'aldilà anche come una traversata in mare. E questo è fondamentale, questa premessa, cioè di Dante che si presenta come pellegrino marinario, perché altrimenti sfugge questa associazione tra Dante e marinaio navigatore e Giasone navigatore. Una mia invenzione no, sostengo che, lo sostengo in questo ultimo libro che ho pubblicato appunto Il mare salato, che il ritenerario verso Dio di Dante è un viaggio anche in mare. Che cosa ce lo dice? Ce lo dice il testo. La prima similitudine in assoluto del poema è di Dante pellegrino che veste i panni di un quasi naufrago. Cioè, voi vi ricordate che all'inizio del poema Dante si gira e verso come farebbe uno che ha appena scampato il naufragio si volse a guardare la nave che affonda. Quindi questa è la prima immagine che ci presenta Dante nei panni di un quasi naufrago. Andando più avanti l'inferno viene definito il Marsic Crudele e il Purgatorio presenta migliore acqua e di nuovo ritroviamo questa presenza di immagini nautiche che costellano il poema credetemi ma soprattutto caratterizzano le invocazioni l'inizio di ogni cantica. Andando avanti l'immagine qui bellissima a cui sono molto affezionata perché appunto presenta in una maniera meravigliosa Dante poeta e Dante marinaio il Dante marinaio pellegrino racconta vedete gesticola con le mani racconta a Dante poeta che scrive il racconto di questo viaggio e i due Dante poeta e Dante marinaio sono entrambi sulla navicella del suo ingegno. Qui siamo in Purgatorio e quindi tutta la metafora tutta la pregnanza l'essenza della metafora nautica che si ripresenta l'inizio della cantica seconda. Più avanti nel Paradiso nel primo canto Dante per spiegare la sua esperienza della transumanazione come ormai sia diventato partecipe della stessa natura del divino cosa fa? Offre una similitudine e che quale similitudine è? Lui nei panni di Glauco una bellissima immagine che ci arriva dalla mitologia di nuovo ricorderete di questo pescatore Glauco che secondo il mito stava pescando e vedeva che questi pesci una volta pescati ritornavano in vita dopo aver mangiucchiato una certa erba allora lui dice sapete cosa faccio ora l'assaggio pure io questa erba e cosa succede? Che lui diventa consorto in mar degli altri dei cioè assume la stessa natura divina attraverso tramite questa questa erba che poi i commentatori danteschi ci spiegano che è nutrirsi di sapienza quindi vedete che anche all'inizio del paradiso l'immagine è un'immagine marittima nautica che arriva dalla mitologia però Dante assume i panni di questo pescatore e ancora all'inizio della all'inizio di questa di questa cantica terza importantissimo per il nostro discorso su Giasune fa affidamento a un'altra immagine quella della Beatrice questa volta ad utilizzarla Beatrice viene definita ammiraglio di Dante nel poema di nuovo Beatrice questa volta si rifà la metafora del mare del porto nel gran mare dell'essere che appunto la miniatura illustra benissimo e di nuovo l'immagine nautica e marittima che viene illustrata in questa miniatura che è a posto scelto in apertura della nostra conversazione perché vede anche Giasune vedete a sinistra in questa immagine che illustra ancora paradiso paradiso secondo canto del paradiso come con la sua imbarcazione il navigio entri nell'oceano e il suo legno che è il suo poema che è cantando barca quindi tutte le cantiche della della commedia iniziano con una dimensione marittima con immagini nautiche e noi ritorneremo su questi versi perché appunto qui è coinvolto direttamente Giasone infine nel canto trentatresimo scusate del paradiso non è trentatresimo del paradiso aggiusterò questa questa diapositiva di nuovo un'immagine nautica arriva a indicare un momento solenne del viaggio di Dante il navigio che è la poesia che cantando barca e attraversa quelle colonne d'Ercole che Ulisse non era riusciuta ad attraversare e che qui in questi versi che vedremo più avanti rievocano la nave Argo e Nettuno che dopo aver osservato l'ombra da sott'acqua della nave Argo osserva questo navigio questo navigio la poesia di Dante quindi tutta questa introduzione dei luoghi dei richiami testuali che vi ho così rapidamente fatto vedere hanno lo scopo di una premessa appunto quella di mostrare che Giasone e il suo viaggio sono presenti a Dante e Dante li utilizzi nella misura in cui gli serve parlare di Giasone ridurlo mortificarlo perché lui possa emergere come il vero eroe del mare come il navigatore il cui viaggio si oppone a quello di Giasone quindi fatta questa premessa possiamo invece adesso andare a occuparci di Giasone cioè so che molti di voi conoscono la storia però perdonatemi rievocarne i momenti principali ci aiutano a capire dove e in quale punto Dante si associa o si distacca da Giasone allora siamo questa è una bella mappa che ho trovato devo dire online che mi sembrava carina proprio perché è molto chiara quindi come abbiamo detto all'inizio quando si pensa a Giasone inevitabilmente si pensa all'impresa degli argonauti i vari nai che salirono sulla nave Argo per recuperare il vello d'oro dove era il vello d'oro era qua nella colchide quindi vediamo qui Giasone parte da Iolco e nella Tessaia in Grecia e perché parte perché lo zio Pelia teme e vuole usurpare il regno al fratello al papà di Giasone e quindi lo manda a morire dice vai a prendere questo vello d'oro quando me lo porti il regno sarà tuo in realtà appunto l'idea dello zio di Giasone era quello di farlo morire e dove era questo vello d'oro il vello d'oro appunto come dicevamo è qua nella colchide sì era nella colchide quindi il viaggio che deve fare Giasone come vedete è qui attraverso poi il ponte Osino e a un certo punto in mezzo come vedete c'è Lemno questa isola di Lemno per noi è particolarmente importante per il discorso di oggi perché Giasone si fermerà a Lemno dove c'è Isifile la regina dell'isola di Lemno dalla quale avrà due figli i gemelli poi dopo essersi fermato a Lemno lui parte appunto per la colchide dove con l'aiuto di Medea con l'uso di vari incantesimi lui riesce a conquistare il vello d'oro il viaggio di Giasone dopo essere andato nella colchide e quindi aver conquistato il vello d'oro fanno ritorno a Iolco fanno ritorno a Iolco dove però sempre con gli intrugli di Medea e i suoi incantesimi Medea assassina fa assassinare dalle sue stesse figlie lo zio di Giasone a quel punto partono sono costretti a lasciare Iolco e partono per Corinto dove Giasone tradisce Medea dopo tutto quello che aveva fatto Medea per lui e sposa Creoso la figlia del re Creonte e sappiamo che Medea si vendica in vari modi attenzione come muore Giasone Giasone muore vecchio solo e triste schiacciato dallo scafo di Argo questo mi sembra importante poi per il nostro discorso ora quali sono le prove di Giasone le prove che Giasone deve compiere per ottenere il vello d'oro anche queste facciamo attenzione a queste tre prove abbiamo detto che Medea aiuta Giasone con vari incantesimi a conquistare il vello d'oro il vello d'oro era stato posto su un albero pare che anche L e il suo fratello abbiano viaggiato se siano serviti di questo vello dell'ariete quando erano scappati dal padre a causa della loro matrigna la prima prova che deve superare Giasone deve arare un campo facendo uso di due tori dalle corne di ferro e piedi di brucio dalle cui narici stiravano fiamme e che doveva aggiungere giungendole all'aratro affinché arassero il campo Medea gli aveva dato per una crema una pomata che lo proteggesse dalle fiamme dei tori consentendogli dunque di superare le prove quindi attenzione a questo momento a questa prova Giasone non ara il campo Ovidio ci dice che non ara il campo in realtà ma lo fa arare a questi tori e la prova sa proprio che questi tori hanno delle fiamme che escono dalle narici ma appunto grazie a Medea lui riesce a farcela è interessante che l'artista di questa miniatura abbia appunto a Giasone abbia dato questa l'idea del bello toro così in una maniera abbastanza creativa mettendoglielo in testa a modo di scudo anche per indicare che lui era protetto da questi fiamme che uscivano dalle narici dei tori poi deve nella seconda prova Giasone deve seminare nel campo arato i denti di un drago mi era sfuggito ma l'immagine me lo ricorda che il bello d'oro a guardia del bello d'oro c'è un drago che non si addormenta mai e che il bello d'oro è in un campo il campo di Marte che è il dio della guerra quindi sono tutti dettagli importanti per capire come la vicenda di Giasone sia legata al suo viaggio dunque a motivazioni del tutto diverse da quelle di Dante quindi come vediamo qui una sorta di riassunto di questo viaggio dopo aver fatto arare a questi tori mostruosi il campo nella seconda prova deve seminare i denti di un drago sarebbe il drago o il serpente che aveva ucciso Catmo i denti di questo drago germogliando generavano un'armata di guerrieri ancora una volta Medea aveva istruito Giasone come poteva fare ad avere la meglio avrebbe lanciato un sasso in mezzo ai guerrieri che incapaci di capirne la provenienza si attaccarono tra di loro annientandosi quindi immaginate seminando questi denti di drago nascevano un'armata di guerrieri alla fine con la trovata di Medea questi guerrieri si attaccano e si annientano tra di loro nella terza prova Giasone doveva sconfiggere il drago insonne che era a guardia del vello d'oro gli spruzzò una pozione ricavata da alcune erbe sempre preparate da Medea il drago si addormenta e così Giasone può conquistare il vello d'oro in questa immagine riassuntiva se possiamo dire di tutta la vicenda di Giasone mi piace perché Argo è lì sullo sfondo ricordarci che tutto questo che succede nel campo di Marte dove c'è il vello d'oro e tutto quello che succede in mare è strettamente legato come appunto ho provato a mostrare all'inizio con quella bella miniatura che mostrava Argo da una parte Giasone e gli Argonauti dall'altra Giasone che sconfigge il drago per conquistare il vello d'oro qui c'è un'immagine macabra proprio vicino allo spettatore che è il papà di Medea che raccoglie le membra frammentate del fratello di Medea Medea per amore di Giasone per ritardare il padre e i suoi uomini ai quali avevano sottratto il tesoro uccide il fratello in modo tale che il padre per piangere sulle membra disfatte del fratello non si affrettasse a raggiungere Medea e Giasone quindi Medea che in questa immagine assolutamente macabra ma eloquente prende i tesori del padre e fugge con Giasone sulla nave Argo quella nave che era partita per conquistare il vello d'oro adesso si lega a tutta una serie di inganni e di crimini ricordiamo che appunto il nome di Medea era proprio quello che significa proprio astuzia quindi qui mi avvalgo di immagini miniatura arrivano dalle traduzioni francesi del De Casibus di Boccaccio dove appunto c'è un grande spazio che viene dedicato appunto alla caduta dell'eroe Giasone dunque il viaggio in mare di Giasone e la conquista del vello d'oro vanno insieme Giasone dove è Giasone abbiamo chiaro lo scopo a questo punto della traversata in mare di Giasone che si mette in mare appunto per il vello d'oro e le prove che devi superare come lo rappresenta Dante Dante lo rappresenta tra i peccatori di malizia nella prima bolgia del cerchio ottavo i peccatori di malizia di cui hanno parlato sia il professor Varela che il professor entrambi hanno parlato l'altro giorno scusatemi adesso non vedo volti di nessuno vedo solo sento me stesso e vedo le immagini mi sembra di parlare da sola e quindi è importante subito stabilire che posto occupa Giasone all'inferno nella prima bolgia del cerchio ottavo tra i peccatori di malizia i fraudolenti Giasone è tra per capirci guardiamo alla mappa dell'inferno Giasone sarebbe qui dove ci sono i ruffiani e i seduttori perché è tra i seduttori Dante segue l'ipotesi di Stazio che lo rappresenta come l'usimero ai retiri e le vergine inesperte i seduttori e i ruffiani che differenza c'è tra i seduttori e i ruffiani i ruffiani sono coloro che mediano affinché qualche altro abbia il vantaggio di stare con una vittima con una donna pensiamo alla Celestina per esempio per fare un esempio magari familiare a molti dell'anziana e i seduttori invece sono quelli che seducono per ottenere un vantaggio personale per un proprio vantaggio quindi in questi versi attenzione siamo un inferno diciottesimo appunto Giasone che riconoscerete qui perché a differenza degli altri ha questo aspetto solenne della barba vedete c'ha anche i capelli l'artista così ha voluto indicare Giasone attenzione qui a questi versi perché in questi versi dove viene presentato Giasone la sua colpa quello di aver seduto le vergini inesperte di aver seduto i Sifile sull'isola di Lemno e poi Medea qui il mare l'esperienza di Argo degli Argonauti non c'è non c'è un traccio di questo viaggio però c'è un accenno al vello d'oro vedete che dice i colchi del montone privati Fene quindi perché abbiamo detto già prima che il vello d'oro è un tutt'uno va insieme al viaggio però il viaggio di Giasone e la sua nave Argo qui non viene menzionata ed è importante questo dettaglio che sembrerebbe ozioso perché da che ha presente il viaggio ovviamente ma comincia qui la presenza di Giasone punito per aver ingannato un altro dettaglio non casuale a cui vogliamo dare la giusta attenzione è che Dante non presenta Giasone che pure è tra i fraudolenti come qualcuno per il quale ha curiosità vuole sapere è intrigato no lo ignora lo disprezza e non gliene importa affatto tanto vero che Dante scrive che il buon maestro senza mia domanda mi disse cioè Dante non gli importa assolutamente di Giasone ma lo fa apposta per dare al lettore la giusta condanna il giusto disprezzo nei confronti di chi per cuore e per senno aveva tutte le carte in regola per essere un vero eroe guarda quel gran che bene per dolor non par lacrime spanda è Virgilio ad attirare l'attenzione di Dante verso Giasone perché appunto Virgilio gli vuole far notare la grandezza la dignità il contegno di questo peccatore che è Giasone ma tutto questo è costruito apposta da Dante ovviamente inutile dirlo perché Dante sta preparando sta preparando la il disprezzo l'annullamento di Giasone perché possa poi emergere con più forza in paradiso che il vero eroe del mare il nomello Giasone quello che veramente ha affrontato usato affrontare le acque che giammai si corsero prima di lui è Dante ma qui cos'altro vogliamo notare che l'unico dato geografico ad alludere alla navigazione di Giasone è l'isola di Lemno con il verbo passare con il verbo passare passò per l'isola di Lemno qui qui è il peccato di Giasone quello che di aver approfittato abusato tanto vantaggio dalla ospitalità di Isifile quindi il peccato di Giasone viene così topograficamente indicato in quell'isola e ripetiamo nel viaggio non c'è un accenno chiaro ed esplicito come si fa per esempio con Ulisse ma solamente con questo accenno all'isola di Lemno e con una revisione del mito di cui ci aveva raccontato sia Stazio nella Tebaide che Ovidio nelle Eroidi la percezione la rappresentazione di Isifile è qui giovinetta gravida soletta ed è questo questa colpa che a tal martirio lui condanna ma andiamo a guardare la definizione di Isifile che a mio avviso è il personaggio fondamentale che è stato poco studiato per capire l'impatto della gravità del peccato di Giasone peccato che andò a corrompere poi la sua dimensione di eroe per Dante dunque secondo Ovidio Giasone avrebbe abbandonato Isifile quando lei era incinta dei loro figli invece secondo Stazio avrebbe Giasone sarebbe partito quando i ragazzini i gemelli erano già nati ma chi è Isifile perché questa sua presenza nel poema è fondamentale perché io ritengo che sia tra Giasone e Dante dunque Isifile è la figlia di Toante andiamo un attimo qui e poi vediamo la figlia di Toante e in questa immagine ce la ce la presenta nella sua dimensione la sua vicenda esistenziale sull'isola di Lemno le donne avevano ucciso tutti gli uomini perché per protestare che loro fossero sempre in guerra e quindi loro venissero trascurate Isifile cosa fa salva il padre e inganna mente alle altre donne dell'isola dicendo di averlo ucciso in realtà questo rogo alle spalle di Isifile ci ricorda nell'essenzialità che poi hanno queste miniature che lei finse un rogo per i funerali del padre ma in realtà come vedete come questa bellissima dolcissima immagine filiale di pietà filiale che lei con una mano quasi saluta il padre e lo manda sull'isola di Chio cioè la speranza almeno era quella perché il mare è infessato di pirati e volevo farvi notare che qui quando Dante dice qui vi consegna con parole ornate Isifile ingannò la giovinetta che prima avea tutte le altre ingannate Dante ci sta dicendo che sì anche Isifile aveva ingannato aveva ingannato le altre donne dell'isola quindi anche lei è vittima di un inganno però noi la troveremo più avanti lo scopriremo a limbo perché perché l'inganno di Isifile è stato per salvare il padre quindi dettato da pietà filiale e il fatto di dire che la giovinetta pure aveva anche lei perpetuato un inganno a danno delle altre donne dell'isola serve a desasperare l'inganno di Giosone l'inganno di Giosone e di altra natura perché è andato a infrangere quel rapporto di fiducia che c'era con un altro individuo un individuo che non stava scritto da nessuna parte che dovesse fidarsi di Giosone in questi versi volevo farvi notare che è la prima volta che incontriamo Giosone la prima volta che lo incontriamo è l'ultima perché Dante l'ha condannato qui come seduttore ed è qui che ha stabilito quell'associazione tra Giosone e lui stesso come pellegrino marinaio tanto vero che non è un caso vedete che i ruffiani e i seduttori procedono per due schiere opposte sono due file opposte vedete che da una parte vanno i ruffiani e dall'altra vanno i seduttori Dante dice con un'immagine bellissima con quel suo realismo domestico se possiamo dire così che a Natale a Natale del 1299 in occasione del del Giubileo l'anno successivo molti fedeli arrivarono a Roma e sul ponte di Castel Sant'Angelo per dividere quelli che uscivano e quelli che entravano dalla Basilica di San Pietro venne messa una transenna Dante dice che i ruffiani seduttori sono divisi come in due schiere come quelle appunto che vennero poi fatte nel 1299 in vista del Giubileo perché questo è importante perché Giasone cammina nella stessa direzione in cui procede Dante tanto vero che Virgilio gli dice guarda se non ti fermi e ti giri non lo vedi perché stavano camminando nella stessa direzione appunto non dimentichiamo che nulla è casuale nel nel poema quindi a mio avviso lì già è stata c'è già la spia che sì io e te Giasone siamo diciamo andiamo nella stessa direzione tutti e due abbiamo fatto un viaggio in mare però tu qua io qua sono di passaggio tu invece ci resti un po' quello il succo quindi abbiamo visto che Isifile è fondamentale figura chiave nei versi che introducono Giasone nel poema e è figura chiave perché lei non è l'eroina che piange o fa le vendette come fa Medea perché Giasone l'ha abbandonata per un'altra Isifile non lamenta di essere stata abbandonata per un'altra ma lamenta l'abbandono è per quello che questi versi giovinetta gravida e soletta sono una riscrittura se vogliamo di Dante sulla base soprattutto di Ovidio che come dicevo prima rappresenta Isifile gravida e Giasone che l'abbandona appunto in queste condizioni qui vediamo che Isifile è costretta prima a far partire il padre ma poi a far partire anche i ragazzi perché appunto sull'isola tutti gli uomini venivano uccisi come vediamo queste donne vestite in abiti militari che incombono su Isifile la sicurezza dei figli soletta quindi qui nei versi danteschi significa abbandonata come ce l'aveva presentata Ovidio infatti piace molto mostrarvi questa immagine a sinistra dove lei gravida che si affida ai messaggeri per avere qualche notizia da Giasone e sullo sfondo quasi in una forma così di finestra vediamo Giasone Argo a ricordare che la vicenda di Isifile è tutta dipendente da quella di Giasone quindi l'immagine della solitudine non è veramente quella che compete a Isifile piuttosto appunto ci tenevo a sottolineare che sta per abbandono e perché è importante questo perché vediamo tutte le miniature che ci ricordano appunto questo legame di Isifile questa spada sul collo delle donne di Lemno e il suo tentativo di salvare prima il padre e poi i figli e in particolare questa immagine drammatica quasi un trittico medievale dove che riassume tutta la vicenda dell'abbandono della povera Isifile dove lei è con i figli rappresentati stranamente come donne ma invece erano due maschi che salutano Giasone e Giasone si presenta come qualcuno che sta per tornare che sta dicendo un arrivederci quindi è per quello che mi piace mostrare questa immagine e dunque il ruolo che Isifile ha qui in un canto dedicato alla prima bolgia dei seduttori all'interno di questa categoria di peccatori che hanno peccato di malizia e fradolente in particolare la colpa di Giasone è che in consegne e parole ornate ha seduto una giovinetta e quindi la scelta di definirla tale acquisisce ulteriormente le colpe di Giasone lasciandola soletta e gravida eppure e la lasciò quindi si osserva come Dante lentamente piano piano distrugga la grande immagine di Giasone un po' quello che farà con Brunetto Latini quello che ha fatto con Brunetto Latini prima nel canto quindicesimo quindi qual è la colpa di di Giasone fingendo amore da tal parte da tal parte da tal parte vediamo che se ne va quello che ha ingannato nel promettere amore falsamente quindi lui ha promesso falsamente amore ingannare con i segni e parole ornate è ben altra cosa dell'orazione picciola di Ulisse la vera natura della sua frode che spezza il legame di naturale amore quell'amore che lega gli uomini tra loro Giasone seduce per piegare le donne e i propri voleri l'inganno di cui si servono a danno delle proprie vittime per raggiungere i loro fini è una promessa sono parole 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 false quindi a spiegarci però la natura del peccato di Giasone ovviamente interviene Virgilio che nel canto undicesimo aveva spiegato l'ordinamento morale dell'inferno con i sifili si tratta di fidarsi o non fidarsi Giasone rompe un rompe un vincolo un vincolo d'amore che natura crea tra un individuo e un altro e soprattutto rompe un rapporto non come quello di Ulisse con il suo equipaggio l'equipaggio si fidava di lui lui rompe un rapporto di fiducia con una persona che non aveva assolutamente bisogno di fidarsi di lui quindi questo è il ritratto di Sifile vittima di Giasone che ci serve per completare il ritratto negativo e specularmente antitetico di Giasone ma cosa c'entra con Dante cosa c'entra il Sifile con Dante cosa c'entra Giasone con Dante io direi che tutto c'entra con Dante che cosa mi suggerisce il ruolo di Sifile nella vicenda tra Dante e Giasone la presenza di Sifile in ben due canti del Purgatorio non sono canti casuali non sono momenti casuali pensate nel Purgatorio ventiduesimo il Sifile non la incontra personalmente cioè tra i peccatori o tra le anime degli spiriti del Purgatorio no però nel Purgatorio ventiduesimo Dante incontra Stazio e Virgilio che in un momento drammatico ironico si confronta con Stazio Virgilio racconta Stazio che lui è al limbo dove c'è quella che mostro l'angia cioè è davvero incredibile che Dante onori la memoria di Sifile e ci dica che benché abbia ingannato le donne di Lemno lei è nel limbo e come lo fa Dante con la sua maestria ovviamente epigrafica ci ricorda un momento della vicenda di Sifile quando Sifile quando le donne di Lemno vennero a sapere che Sifile aveva ingannato tutte con il falso funerale del padre è costretta a fuggire viene rapita dai pirati e viene data in dono a Licurgo Licurgo dà a a a Sifile il ruolo di Balia di suo figlio e figlio di Licurgo e cosa successe che mentre era nel parco con questo bambino Isifile arrivò a Drasto la sua e il suo esercito il re degli argivi a Drasto siamo all'assedio di Tebbe i re che preparano l'assedio di Tebbe a Drasto chiede a Isifile di indicarle una fontana cosa era successo che Bacco per frenare appunto l'assedio di Tebbe aveva chiesto ad Aretusa a Dea delle Fontane ad Amaco Dio dei fiumi di seccare tutto fontane e fiume fuori di Tebbe salve una fontana Langia che era consagrata a Nettuno vedete 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 quanta storia c'è in un verso vedesi quella che mostrò Langia è incredibile quindi cosa fa Dante attraverso Virgilio rievoca una sua vicina di casa perché sono tutti e due a limbo rievoca un momento che Isifile vive e che vive a causa di Giasone e cosa succede che Isifile fa vedere questo questo fonte a Dasto ma mentre fa questo si distrae il bambino il figlio di Licurgo viene morso da un serpente e muore apriti cielo giustamente perché poi vedremo nel canto 26 quindi vedete come la storia Isifile Purgatorio 22 Purgatorio 26 Dante si ricorda di nuovo di Isifile perché perché quando incontra Guenizelli Dante vorrebbe abbracciarlo e in un momento di altissima poesia Dante dice che si sente davanti a Guenizelli come Isifile nel rivedere i suoi figli puntata successiva Licurgo aveva mandato Isifile a badare a suo figlio il bambino muore cosa succede che Licurgo vuole giustiziare mandando l'arrogo Isifile ma i figli che seguivano Adrasto ecco erano qui i figli infatti li riconosciamo dietro il re Adrasto facevano parte di questo esercito che seguiva Adrasto i figli riconoscono la madre e la salvano che cosa voglio voglio mostrare con tutta questa attenzione a Isifile cioè Isifile viene ricordata in due momenti in cui sono dei poeti a interloquire con Dante cosa significa significa che Isifile svolge un ruolo a livello poetologico e rimane a spiegare la condizione soggettiva del poeta pellegrino e marimai nei confronti di Giasone cioè in altri termini messi insieme questi episodi di Purgatorio 22 e Purgatorio 26 non si può ignorare che lei abbia un ruolo all'interno del progetto ideologico e poetologico del poema cioè la sua presenza tra i poeti conferma il Giasone seduttore cioè la superiorità morale di Dante che pure sono attraversate in mare e correate che già mai si trusse cioè quando Cursius dice che non non è Giasone la persona di Giasone a motivare il viaggio in mare vedete che cominciano i riferimenti testuali cominciano un po' a contraddire il grande romanista al quale dobbiamo veramente tantissimo quindi nulla assolutamente non è quella la mia intenzione a Dante interessa il seduttore Giasone e Nelina rivocare la figura di Sifile in questi momenti luoghi deputati del purgatorio non fa altro che convincere il lettore che il Giasone nel poema è il Giasone seduttore quindi questa colpa questa tal colpa tal martirio lui condanna rimane la condanna che dice su tutto poi il poema per quanto riguarda Giasone è inutile dire come fanno alcuni commentatori tra cui Bosco e Reggio che pure stimo moltissimo che l'eroe resta a mio avviso no e non perché io voglia vedere a tutti i costi i seduttori Giasone ma perché il testo ci invita a ben altra lettura per esempio dicono scrivono Bosco e Reggio commentatori della della commedia parecchi oggi si taccano gli occhi per poter vedere la figura di Giasone solo il seduttore fanno acrobazie critiche per escludere l'eroe invece no non voglio fare acrobazie critiche ma mettere in luce il ruolo di Giasone nella vicenda di Dante Pellegrino Marigai Dante ha bisogno di degradarlo di mortificarlo perché ha bisogno di preparare il lettore al paradiso al trentatresimo e al paradiso all'inizio della cantica del paradiso come colui che veramente ha percorso le acque che già mai si corsero con cuore e con segno allora qui noi vediamo che si spiega questa analogia che Dante stabilisce in modo chiaro in paradiso nell'apertura di paradiso secondo canto quando dice che l'acqua diocorsi già mai si corse e in questi versi in questi versi Giasone ci sono tantissimi riferimenti al mito di Giasone degli Argonauti però Giasone viene presentato come bifolco tra l'altro attenzione perché nel mito Giasone non ara fa arare quella era la prova i tori i tori mostruosi da cui uscivano appunto le fiamme ma qui questi versi è vero come sicuramente ha detto la professoressa De Blasi ieri sicuramente qui c'è il richiamo a Ulisse l'Ulisse di Dante ma molti sono riferimenti al mito di Giasone per esempio quando qui l'acqua che già mai che ho prendo già mai non si corse vorrei andare un attimo qui è una riscrittura del verso di Ovidio del mare non notum così quando dice che quei gloriosi che passarono al colco i colchi ammiraron in realtà anche qui Dante riscrive un passo delle metamorfosi di Ovidio perché furono i colchi ad ammirare ma non gli Argonauti ad ammirare a guardare e restare sorpresi nel vedere Giasone nelle vesti di Bifolco quindi cosa succede qui all'inizio del Paradiso Paradiso 2 e quindi ci avviciniamo anche alla fine di questa conversazione che Dante lo presenta come nelle vesti del Bifolco ma tutti questi versi richiamano invece l'impresa di Giasone a un mare a ragione benvenuto da Imola affinata seggeta della commedia quando questa similitudine l'acqua che ho preso già mai non si corse scusate stabilisce una 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 similazione tra Dante e Giasone Giasone per primo con grossa nave entrò in alto mare come Dante primo poeta con sublime ingegno entrò nella materia del Paradiso ma la sua impresa è diversa Giasone conquistò un tesoro Dante il sommo bene anche per quello l'ho messo in rosso questo verso a proposito del navigio della poesia di Dante che serva il solco cioè che la poesia che lascia una traccia attenzione perché questo servando mio solco comunque fa riferimento al solco e che si lascia nella terra la riga che si lascia nella terra e fa riferimento di nuovo al viaggio di Giasone e alla differenza e alla superiorità del viaggio in mare di Dante sul superamento del limite coincide con il viaggio marino di Giasone e Dante pellegrino marinaio nelle acque mai percorse prima ad alcuna ha grande importanza questo solco del verso 14 che richiama il testo vidiano ma assume un particolare valore alla luce di un paragone di Virgilio fra la navigazione e l'arte di arare nelle neide per diventare nella commedia metafora della scrittura è bellissimo i segni lasciati dalla penna sulle carte ancora bianche di cui si compone il libro che abbiamo davanti nel paradiso 21 21 canti dopo la grande immagine della nave che cantando varca sull'acqua ritorna qui dove Dante non a caso definisce il suo poema sacrato poema quindi non è pareggio da picciola barca quel che fendendo va all'ardita proa né da nocchier che assieme le sue forze Dante poeta pellegrino marinaio ha conquistato con fatica la conoscenza viva l'oggetto della sua ricerca è stata questa conoscenza ad averlo tirato fuori sano e salvo dal mare dell'amor fallace per porlo sulla riva del mare dell'amore vero vedete come continua con insistenza questa metafora nautica il viaggio in mare come viaggio verso la conoscenza non c'è un Dante che ammiraggia sole per il suo viaggio sulla nave Argo e un altro Dante che lo condanna per aver ingannato i sisile con segni e parole ornate a differenza del poeta Scribadei che usa la parola veritiera per raccontare il suo viaggio ultraterreno il vero conoscimento appreso nel corso del suo viaggio Dante si identifica con Giasone solo ed esclusivamente per articolare le ragioni profonde della diversità del loro viaggio marino e delle sue finalità e queste ragioni consistono nel modo in cui hanno raggiunto il fine della loro inchiesta la differenza è tutta nel modo in cui procede da una parte il viaggio marino della nave Argo portata a termine grazie alle parole ornate di Giasone e dall'altra quello del legno del poeta effettuato con altra voce con altro vello siamo in paradiso paradiso 25 con altra voce o mai con altro vello ho i brividi ogni volta che metto io mano a questi versi perché qui c'è Giasone Giasone che vuole tornare a Iolco al suo bello vile e qui c'è Dante che vuole tornare a Firenze con alta voce ormai con altro vello dopo aver attraversato il mare dopo aver fatto questo viaggio ultraterreno grazie all'immagine della nave che cantando Varca e attraversa le colonne d'Ercole lui con alta voce ormai con altro vello ritornerà poeta e sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello le miniature che riguardano Giasone lo immortalano con tutti gli elementi ai quali Dante pensava cioè qual è lo scopo di andare a conquistare il vello d'oro a cosa serve serve per conquistare una terra per beni materiali per i quali tanti crimini e tanti inganni erano stati perpetati quindi Giasone spera di tornare a York a casa sua come regnante Dante torna di sperare a casa sua con il merito di poeta ed essere coronato di alloro non con il bile manto il vello d'oro ma la conquista di scienza umana e divina Dante come Giasone nel racconto vidiano si mette a cercare in un viaggio marino attraversando delle acque che già mai si corsero ma quel che definisce la differenza tra il navigatore Giasone e il poeta Pelledino marinario Dante è che il raggiungimento dell'oggetto del desiderio il vello d'oro per il primo e Dio è che è la vera conoscenza il poeta Pelledino Dante come mostra l'immagine bellissima del codice Yates Thompson 36 condividono un viaggio in mare insieme procedono verso il porto finale grazie all'intervento di sapienza perché entrambi supereranno grazie al suo intervento i rischi del mare il poeta è su una nave che procede spedita con i venti favorevoli di Minerva e Pellegrino dopo essersi nutrito di quella sapienza diventa partecipe di una dimensione che oltrepassa i limiti dell'umano come altri nell'inferno il grande Giasone dimostra che le alte imprese umane non servono a salvare l'anima cioè a riscattare le colpe morali la favolosa conquista del vello d'oro non vale l'inganno compiuto contro una giovinetta indifesa i due atti sono infatti di ordine diverso e non sono tra loro commisurabili il mito di Giasone l'uomo che fece costruire la prima nave Argo per recarsi nella colchida impadronirsi del vello d'oro tornerà nel paradiso a simboleggiare la conquista da parte dell'uomo della felicità celeste e come mi sono un po' divertita qui concludo dicendo che appunto Dante Novello Giasone con altro vello ovvero Morse tua vita mea grazie grazie mille grazie Roberta passiamo direttamente all'ultimo intervento di questa terza ricchissima giornata dantesca nel Dante D e quindi sono molto felice di dare la parola a Laura Cannavacciolo prego ci sentiamo grazie margherita intanto io ti ringrazio subito perché se siamo qui e siamo riusciti insomma a omaggiare a festeggiare Dante in questa misura e con questo entusiasmo è solo merito tuo e io alle mie spalle questa sera ho messo i libri gli ultimi libri non so se l'avete notato io l'ho fatto apposta c'è anche una fotocopia del libro di Guido non ho il libro di Valera né quello di Battistini ma è insomma è un mio personale omaggio insomma per voi il libro di Guido è in dipartimento ormai da un anno e mezzo quando riuscirò ad andare in studio lo porterò a casa mai avrei immaginato di non marcare più la soglia di via però questi due fari che sono alle mie spalle insomma anzi tre vi ringrazio e che dire io sono onorata di prendere parte a queste giornate è difficilissimo parlare di Dante dopo le relazioni diciamo così pregnanti stimolanti di tutti i colleghi sono ammirata sono ammirata dalle vostre parole dai vostri ragionamenti ho preso appunti peraltro lo spunto sulla sulla barca Arca mi ha ricordato da rigor Cino Sorca un passaggio di questo romanzo io credo che sicuramente ci sia una rete intertestuale dantesca non so se sia stata anche messa a frutto però mi ha mi ha aperto mondi oltre al fatto che è bellissimo come tutti i relatori abbiano saputo proprio intersecare le fonti i ragionamenti il materiale iconografico testuale per cui questo è veramente un'occasione di studio e di confronto importante nel mio piccolo come sapete mi dedicherò alla lettura che in maniera implicita primo Levi fa attraverso appunto primo Levi personaggio che rievoca nel suo romanzo se questo è un uomo il canto di Ulisse però come dicevo al professor Cappelli io ero un po' perplessa su quando quando Margherita ragionava sulle giornate dantesche io non ero proprio non sapevo dove orientarmi perché poi sono arrivata a Levi che potrebbe essere anche una proposta tra virgolette scontata perché c'è tanto materiale tanti studi critici sulla lettura che Levi fa del canto di Ulisse e allora vi leggo questo passaggio che mi ha illuminato quindi il mio il mio intervento di oggi nasce da un'intuizione più che un'intuizione un'illuminazione di un percorso di lettura personale che appunto leggevo se questo è un uomo e da lì poi ho pensato che c'era ancora qualcos'altro da dire da poter aggiungere alla serie di studi che ci sono su Levi lettore di Dante e partirei proprio dal capitolo dei sommersi salvati che precede quello del canto di Ulisse in cui Levi scrive vorremmo far considerare come il Lager sia stato anche notevolmente una gigantesta esperienza biologica e sociale si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età condizione origine lingua cultura e costumi e siano qui vi sottoposti a un regime di vita costante controllabile identico identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni e quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e cosa sia acquisito nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita noi pensiamo noi crediamo che l'uomo noi non crediamo che l'uomo sia fondamentalmente brutale egoista e stolto come si comporta quando ogni sovrastruttura civile è tolta noi pensiamo piuttosto che quanto a questo null'altro si può concludere se non che di fronte al bisogno e al disagio fisico assillanti molte consuetudini e molti istinti sociali sono ridotti al silenzio quando Levi dice e lì diciamo mi è mi si è aperta una finestra noi non crediamo quindi noi Levi che l'uomo sia brutale allora quella brutalità è chiaro è un chiaro rinvio al a quell'idea di non viver come bruti che è Dante che è Dante ripreso poi da Levi nel successivo capitolo su Lisse e che un po' anzi non un poco ora mi è ancora più chiaro alla luce di queste giornate alla luce di questi studi si ricollega a quel discorso sulla matta bestialità che faceva Guido Cappelli che cos'è questa bestialità questo attributo umano che sorge in particolari condizioni però attributo irragionevole e quindi da qui ho pensato che si poteva poi partire da questa brutalità e dove la ritroviamo la brutalità la ritroviamo nel canto di Ulisse ed è singolare che in questo passaggio dove io evidentemente mi sono riconosciuta e forse ci siamo riconosciuti un po' tutti l'idea di un esperimento di costrizione in cui viene silenziato ogni istinto sociale e quindi mi sembrava più interessante sottolineare Levi lettore e analista del comportamento umano non solo un testimone di Auschwitz però da Auschwitz partiamo per cui noi sappiamo che Levi nel 43 viene catturato in Val d'Aosta lui si trova a San Benzano con la sorella per fuggire faccio questa premessa inevitabile perché ci sono studenti probabilmente molti avranno studiato a scuola Levi lettore di Dante però è d'obbligo quindi nel 43 Levi viene catturato viene insomma reso prigioniero per un mese nel appunto in Val d'Aosta dopodiché viene mandato al campo di Fossoli e da lì verrà deportato ad Auschwitz a questo proposito vivendo il vedete non so se vedete vediamo vediamo tutto perfetto allora ora sopravvissuto alla vita del Lager una volta rientrato in Italia Levi decide di raccontare l'indicibile l'indicibile orrore nel suo primo lavoro che è appunto se questo è un uomo sappiamo sapete che se questo è un uomo ha due edizioni quella del 47 la prima De Silva di Tore e poi la seconda quella che avrà poi maggiore successo quello che gli consentirà insomma anche numerose traduzioni per Enaudi nel 1958 ecco la cosa particolare che appunto riguarda che colpisce di Dante che Dante sappiamo che era un chimico ma dopo il Lager sente quest'urgenza di scrivere e quest'urgenza di scrivere lui la tematizza in più occasioni in una di queste infatti come vedete dice se non avessi vissuto la stagione di Auschwitz probabilmente non avrei mai scritto nulla non avrei avuto motivo incentivo per scrivere i problemi di stile mi sembravano ridicoli mi pareva questo libro di averlo già in testa tutto pronto di doverlo solo lasciare uscire e scendere sulla carta quindi è un'operazione paradossalmente facile cioè l'urgenza di testimoniare e la sensazione di avere uno stile e un modello di struttura già presente questo modello di struttura è la commedia leggiamo infatti in un'intervista di Greer del 1985 quando ritorna sull'argomento sull'urgenza di scrivere e quindi e anche sui legami e con la commedia dice quando fu il momento e dovetti scrivere questo libro e allora avevo davvero un bisogno patologico di scriverlo trovai dentro di me una sorta di programma e si trattava di quella stessa letteratura che avevo studiato più o meno con reluttanza di quel Dante che ero stato costretto a leggere alla scuola superiore dei classici italiani e così via quindi Dante scusatevi Levi confessa di essere stato un pessimo piuttosto un lettore disattento di Dante ma di aver comunque assorbito quelle informazioni ma anche quelle suggestioni senza manco esserne consapevole che poi mette a frutto in maniera istintiva quando si trova per la prima volta davanti alla pagina bianca del suo primo romanzo quindi alla sua prima prova di scrittore ovviamente nella Divina Commedia in Sequesti un Uomo i riferimenti alla commedia sono tantissimi e sono soprattutto legati per i motivi diciamo che possiamo comprendere all'inferno le ragioni di questa simmetria sono evidenti a tutti c'è una specularità rappresentativa forte tra l'inferno dantesco la concezione dell'inferno dantesco e l'inferno in terra rappresentato dall'Ager chi diciamo il critico che sottolinea tra i tanti con maggior vehemenza questa simmetria è proprio Steiner che dice il campo di concentramento incarna spesso fin nei minimi particolari le immagini e le cronache dell'inferno nell'arte e nel pensiero europeo dal XII al XVIII secolo ma nessuna opera uguaglia la completezza delle osservazioni di Dante i campi di concentramento e di sterminio del XX secolo ovunque esistano sotto qualsiasi regime sono l'inferno reso immanente sono un trapianto dell'inferno dal sottosuolo alla superficie della terra ovviamente avrei potuto scegliere tanti altri studiosi ma Steiner si è concentrato spesso sulla riflessione sull'olocausto e quindi anche su questa sull'iconografia sulla qualità rappresentativa dell'inferno e certamente la sua riflessione è centrale ed è pertinente al nostro caso quindi sul binomio lager-inferno che è esplicitato da Levi e ha delle ragioni narrative e rappresentative abbastanza evidenti noi possiamo appunto ragionare proprio come molti studiosi hanno fatto guardando come proprio all'interno di Sequestion Uomo ad esempio Levi prelevi concetti particolarmente iconici dell'inferno dantesco ad esempio il limbo malebolge la bolgia l'inferno e poi ci sono delle riprese che non so se vedete che appunto questa è una carrellata di alcune di alcuni passaggi significativi ovviamente sono solo una parte una porzione piccolissima in che stanno ad indicare a sottolineare appunto questa corrispondenza tra il viaggio nell'oltretomba di Dante e il viaggio verso il fondo di Levi nel Lager perché pure Levi concepisce la vita del Lager un viaggio verso il fondo quindi dando già una sensazione di appunto di imbuto come è la struttura dell'inferno cosa ci scrive Primo Levins e questo è un uomo questo è l'inferno oggi ai nostri giorni l'inferno deve essere così una camera grande e vuota e noi siamo stanchi di stare in piedi e c'è un rubinetto che gocciola e l'acqua non si può bere e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente ci sentivamo dall'altra parte questa prima lunghissima giornata di antinferno volge al termine questa è una casa dei morti questo complicato mondo infero la musica che sentiamo è infernale e poi l'immagine del fondo in viaggio verso il nulla in viaggio all'ingiù verso il fondo eccomi dunque sul fondo queste sono solo alcune delle espressioni delle immagini che Levi usa per marcare questa somiglianza questa relazione tra l'inferno dantesco e il lager la vita del lager ovviamente però il luogo dove questa relazione questa connessione che non è solo una connessione intertestuale ma vedremo è qualcosa di più è più evidente e marcata è certamente il capitolo che si intitola il canto di Ulisse e quindi è chiaro che per come dire leggere quel capitolo è necessario fare una piccola parentesi io sono grata a Margherita De Blasi che mi ha praticamente spianato la strada quindi io dirò pochissime cose sul canto di Ulisse che è stato esaminato e analizzato e sviscerato ieri in maniera perfetta dirò solo quello che serve per per il nostro Levi allora diciamo che il mi rifaccio anche a una lettura molto bella a un libro che consiglio ai ragazzi che è questo l'ombra di Ulisse di Boitani se non l'avete letto ve lo consiglio anche sotto l'ombrellone perché è davvero un viaggio meraviglioso anche per l'ottica comparatista e lui dice cose interessanti mi serviva un testo che potesse spaziare visto il lavoro che faccio diverso da quello dei colleghi e cosa ci dice Boitani sottolinea che a Dante che voleva narrare di Ulisse si presentavano tre tradizioni mitiche e letterarie di grande autorevolezza queste tre tradizioni mitiche me le riassumo e poi non so se i colleghi sono d'accordo però insomma io prendo prendo Boitani la prima è ovviamente quella legata all'Ulisse fraudolento ingannatore che inganna con l'uso malizioso della parola l'altro quello l'Ulisse la tradizione legata all'Ulisse condizionato da questa spinta conoscitiva forte del barcare i confini e poi una terza tradizione che vedeva Ulisse quasi come una prefigurazione di Cristo in che misura l'Ulisse legato all'albero davanti alle sirene veniva interpretato era stato interpretato quasi come una figura cristologica ebbene l'Ulisse di Dante sottolinea Boitani riprende queste tre tradizioni le reinterpreta le fa sue e dà vita a un personaggio che Boitani definisce sovversivo perché rompe con una tradizione classica e apre al moderno ma non è questo il discorso che che voglio fare voglio sottolineare che come diceva Margherita De Blase ieri il canto dantesco dedicato ad Ulisse il 26esimo canto sottolinea rimarca non tanto aspetti che riguardano il peccato in sé ma mi sembra sottolineare soprattutto questi tre elementi ovvero l'avventura la saggezza e il naufragio in che senso l'avventura lo abbiamo visto il percorso di Ulisse attraverso il Mediterraneo la definizione delle isole che attraversa poi la dimensione della saggezza quindi il connubio virtù e conoscenza che quasi vale passatemi la semplificazione quasi vale a parziale riscatto della condanna questo spingere su questo elemento anche se poi appunto alla fine il mare si chiude sopra la barca di Ulisse che naufraga quindi il terzo elemento è il naufragio ma il naufragio spiega Dante è dovuto al fatto che il viaggio di Ulisse non è protetto dalla grazia divina non è benedetto a differenza non è santificato ecco invece il viaggio di Dante è gli consentirà la salvezza no e quindi quello che viene sottolineato del 26esimo sono proprio questi tre aspetti l'avventura la dimensione della conoscenza che è fortissima fondamentalmente nella tradizione noi ci ricordiamo di Ulisse per l'orazione piccola molto più che per il suo peccato e ci ricordiamo del naufragio ed ecco rispetto a questi tre elementi vediamo vediamo che tipo di lettura fa Levi adesso allora quando nel diciamo a distanza di quasi 40 anni dall'uscita di Sequestionomo Levi nei Sommersi e Salvati ritorna un po' sulle sue opere non so se qualcuno di voi ha letto questo libro è un libro saggio incentrato sul valore della memoria anche questo è un testo capitale io ve lo consiglio anche l'incipit dei Sommersi e Salvati è importantissimo è una ricognizione sul valore della memoria e anche sull'inaffidabilità della memoria e quindi proprio partendo dal ragionamento sulla memoria inaffidabile fatta da un testimone quindi è un Levi che si mette in discussione mette la sua testimonianza sul banco degli imputati ebbene lei ragiona su Sequestionomo e dice queste cose quando parla di Sequestionomo parla del canto di Ulisse a sottolineare quanto quel capitolo di quel romanzo sia stato fondativo per tutta una serie di discorsi non è casuale che lui scelga quel capitolo e non per esempio quello che vi ho citato io all'inizio i sommersi salvati e scrive rileggo dopo 40 anni in Sequestionomo il capitolo Il canto di Ulisse è uno dei pochi la cui autenticità ho potuto verificare è un'operazione rassicurante a distanza di tempo come ho detto nel primo capitolo della propria memoria si può dubitare perché il mio interlocutore di allora Jean Samuel è fra i pochissimi personaggi del libro che siano sopravvissuti a lui allora non interessava Dante gli interessavano io nel mio conato ingenuo e presuntuoso di trasmettergli Dante la mia lingua e le mie confuse reminiscenze scolastiche in mezz'ora di tempo e con le stange della zuppa sulle spalle allora e là valevano molto mi permettevano di ristabilire un legame col passato salvandolo dall'oblio e fortificando la mia identità attenzione alle parole allora e là cioè nel lager quelle parole quella conversazione su Dante tra Levi e Jean quella stessa che viene raccontata nel capitolo il canto di Ulisse valevano molto perché con le stange della zuppa sulle spalle consentivano all'uomo Levi ridotto ad oggetto disumanizzato ridotto a cosa di ritrovarsi di fortificare la propria identità quindi Levi ci sta dicendo nei sommersi salvati che seppur è scettico sui propri stessi racconti quel capitolo lo salva quel capitolo centrava una verità cioè il valore della conoscenza della memoria anche una memoria scolastica come viatico per la salvezza almeno salvezza dello spirito e quindi andiamo a vedere cosa succede in questo canto di Ulisse il canto di Ulisse racconta di un episodio che appunto in parte vi ho già anticipato Levi e il piccolo cioè Jeanne il piccolo era uno una figura all'interno del campo di concentramento che insomma aveva funzioni diciamo organizzative e gestionali all'interno di un piccolo comparto di questo comparto faceva parte Levi e il piccolo quindi Jeanne chiede a Levi di accompagnarlo a recuperare il rancio il pentolone della zuppa che doveva sfamare per cui questa operazione dura diciamo tra il tragitto il carico e lo scarico una una mezz'ora un 40 minuti immaginiamo che sia un tempo molto breve e in questo tragitto i due discutono e Jeanne confessa a Levi di voler imparare l'italiano di essere curioso dell'italiano e allora cosa succede? succede che Levi comincia a recitargli Dante e gli recita il 26esimo canto dell'inferno ora noi possiamo trovare anzi sicuramente didatticamente e metodologicamente discutibile questa strategia e questa domanda se la fa anche Dante dice ma perché mi è venuto in mente il 26esimo canto dell'inferno e vediamo cosa dice il canto di Ulisse chissà come e perché mi è venuto in mente chi è Dante che cosa è la commedia quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cosa è la divina commedia come è distribuito l'inferno cosa è il contrapasso Virgilio e la ragione Beatrice e la teologia Gianni è attentissimo ed io comincio lento e accurato lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando cosa succede? succede che Levi si interroga su questo lampo su questa reminescenza scolastica però poi procede perché deve farlo e non si fa più domande e comincia a recitare solo che mentre recita le terzine che aveva imparato a scuola ha dei voti di memoria e lo dice che gli mancano gli mancano dei versi e allora fa la parafrasi fa una parafrasi che è diciamo abbozzata perché è difficilissimo tradurre dall'italiano al francese oppure provare una parafrasi quindi italiano un parafrasato e provare a trovare quelle immagini che abbiamo visto Dante la lingua che usa e trasformarle ridurle semplificarle in un francese che Gianni possa capire però cosa cosa succede succede che in questo passaggio di traduzione di lettura di rifacimento Levi si scopre interprete di Dante traducendo parafrasando scopre l'interpretazione e dice mimissime per l'alto mare aperto di questo sì di questo sono sicuro sono in grado di spiegare a piccolo di distinguere perché mi si me non è je me mi è molto più forte più audace è un vincolo infranto e scagliare se stessi al di là di una barriera noi conosciamo bene questo impulso l'alto mare aperto piccolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire è quando l'orizzonte si chiude su se stesso libero dritto e semplice e non c'è ormai che odore di mare dolci cose ferocemente lontane ecco cosa cosa succede che per la prima volta Levi leggendo quel verso di Dante lo comprende o quantomeno lo riconosce perché l'interpretazione è il riconoscimento è un far proprio un messaggio e quindi scopre in quel in quel in quel in quel desiderio di Ulisse di varcare di buttarsi nel mare aperto pur sapendo di lasciare Telemaco la moglie il padre scopre se stesso e scopre anche il rischio lo dicevo ieri parlando con con Margherita un altro aspetto che colpisce è e quando lo dice si metta dovevo venire nel lager per accorgersi che è la stessa espressione di prima è missi me ma non ne faccio parte non ne faccio parte non sono sicuro che sia un'osservazione importante e ancora allora da qui quindi questo processo di interpretazione arriva poi a comprendere i versi della orazione piccola che conoscete bene considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtù e conoscenza come se anch'io lo sentissi per la prima volta come uno squillo di tromba come la voce di Dio per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono piccolo mi prega di ripetere come buono piccolo si è accorto che mi sta facendo del bene o forse qualcosa di più forse nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso ha ricevuto il messaggio ha sentito che lo riguarda che riguarda tutti gli uomini in travaglio a noi in specie e che riguarda noi due che possiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle quindi perché l'intuizione perché quando in questa lezione improvvisata di italiano Levi rievoca le terzine famose del 26esimo ha un'illuminazione le riscopre le rilegge e sente che qualcosa lo riguarda e un altro passaggio importante è quando più avanti lui ricorda quel come altrui piacque Ulisse naufraga come altrui piacque il naufragio di Ulisse è un naufragio secondo Dante inevitabile come piacque a Dio quell'altrui è Dio e allora di fronte a questo altrui questi versi ecco una nuova illuminazione ecco un nuovo modo per comprendere se stesso attraverso il testo di Dante trattengo piccolo è assolutamente necessario e urgente che ascolti che comprenda questo come altrui piacque prima che sia troppo tardi domani lui o io possiamo essere morti o non vederci mai più devo dirgli qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto il perché del nostro destino del nostro essere oggi qui quindi in quel come altrui piacque del 26esimo e in questo rapporto di specularità che vede Levi sentirsi il doppio di Dante ma anche il doppio di Ulisse sì è come se si dicesse ma può essere che il naufragio è il compimento della volontà di Dio cioè può essere che il lager è il compimento della volontà di Dio cioè che noi siamo qui per un disegno e quindi la mancanza di senso la brutalità l'annientamento umano abbia comunque un senso per altrui questo è un interrogativo che lui si pone ed è l'illuminazione il momento in cui e questa illuminazione avviene attraverso Dante attraverso la lettura attraverso il testo se non ci fosse stato Dante questo motore immaginativo ma che anche autoanalitico non sarebbe scattato e suona più che come dire negativo l'idea che Dio possa volere una condizione di annientamento simile all'interno del capitolo suona più come una 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 riflessione consolatoria ecco un appunto un riempimento di senso di un prigioniero che ridotto a cosa ridotto a niente e comincia a ragionare e e trova il senso che è più forte dell'annientamento quindi è quasi come un un principio di resistenza che nasce nella nella psicologia di Levi e quindi quando anche se cosa succede che il il capitolo si chiude come si chiude anche il 26esimo sul celebre verso infinché il mar fu sopra noi rinchiuso perché il 26esimo si chiude con Ulisse che viene diciamo con la barca di Ulisse come ricordava Roberta Margherita che affonda e quindi il mare si chiude sui personaggi e non c'è il Dante che ha la reazione ma si chiude su queste immagini così anche il capitolo il canto di Ulisse si chiude con i versi di Dante ora questo mare che si rinchiude e dà un senso certamente di 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 oppressione no di di vanificazione di ogni tipo di speranza però è qui diciamo inizia una lettura che è un po' il percorso della mia ricerca su Levi vi ho fatto una panoramica riprendendo studi magari anche cose conosciute e ora vediamo invece di vedere dove ci porta il canto di Ulisse all'interno di Se questo è un uomo cosa possiamo aggiungere rispetto a tutti questi studi che ci sono e che ci saranno che funzione ha il canto di Ulisse all'interno di Se questo è un uomo è solo un un momento per sottolineare l'importanza della conoscenza e della memoria per l'uomo è solo un momento di tregua nella vita del Lager perché alla fine il capitolo si chiude col mare che si rinchiude quindi immaginiamo che il momento del rancio di questa lezione tra piccolo e Levi sia questo piccolo idillio e poi dopo si ritorna c'è qualcosa però che cambia almeno a mio avviso e mi pare di riuscire a dimostrarlo per dimostrarlo però dobbiamo ritornare a Steiner e a quell'opera poderosa che è dopo Babele che probabilmente qualche studente avrà già incontrato in dopo Babele Steiner dice una cosa molto importante su quello che è il rapporto tra la lingua e la temporalità dice l'uomo soltanto ha evoluto una grammatica della futurità noi possiamo noi uomini possiamo essere definiti un mammifero che usa il futuro del verbo essere questa immagine è bellissima però dobbiamo leggerci il passo per entrare e poi capire qual è la parte conclusiva del mio discorso perché ci siamo quasi non vi preoccupate la provvista di concetti e di atti verbali che incarnano il futuro è indispensabile alla conservazione e all'evoluzione della nostra specifica umanità come la provvista di segni è indispensabile all'economia del cervello tagliata fuori dalla futurità la ragione si seccreve chiusa la porta sul futuro e su tutta la percezione ogni conoscenza diventa inerte non potrebbe esistere alcuna storia personale né sociale così come la conosciamo senza le fonti vitali costantemente rinnovate delle proposizioni al futuro esse costituiscono ciò che Ibsen chiamava la menzogna vitale quel dinamismo complesso di proiezione di volontà di illusione consolatoria dal quale dipende la nostra perpetuazione psichica e presumibilmente biologica vi possono essere spasmi di disperazione nell'individuo e nella comunità ma queste tentazioni nichilistiche restano fatti saltuari e sul piano stilistico rari il tessuto linguistico da noi abitato le convenzioni di proiezione in avanti così profondamente radicate nella nostra sintassi favoriscono una capacità di resistenza costante a volte involontaria anche se stiamo negando l'idioma della speranza così immediatamente presente alla mente ci spinge di nuovo in superficie questo è un passaggio chiave che possiamo utilizzare per comprendere il meccanismo che si attiva in sequestro un uomo dopo il canto di Ulisse tutti i maggiori critici Segre Mattioda Belpoliti hanno sottolineato nei loro studi importantissimi fondativi e fondamentali il fatto che in sequestro un uomo il tempo sia come bloccato quindi in qualche modo ci sia l'assenza del futuro come si blocca il tempo se noi siamo biologicamente votati nella sintassi nel lessico nella nostra conversazione comune questi nei i critici con tanto di argomentazione hanno dimostrato come per esempio i tempi verbali di sequestro un uomo quelli dominanti siano il presente e il passato quindi il futuro non ci sia come manchi un lessico del futuro o quantomeno il lessico legato al futuro o le proposizioni legate al futuro siano marcate da una sensazione di blocco una negazione del futuro cioè il futuro esiste ma ha negato cioè l'unico futuro possibile probabilmente è la morte il sapere di andare alla morte e così succede nel senso che io vi ho messo qualche passaggio per darvi un'idea è chiaro che ci uccidono chi crede di vivere è pazzo io ho capito che sarà finita il problema del futuro rimoto in pallidito perché i problemi sono quelli del futuro prossimo a dare un colpo di spugna al passato al futuro si impara assai presto se il bisogno premie quindi noi vediamo e non si può non essere d'accordo con gli studiosi che il tempo il trattamento del tempo nega assolutamente il futuro lo blocca nel lager dopo il canto di Ulisse però c'è qualcosa c'è qualcosa che cambia ed è questo diciamo il mio piccolo studio che ho portato avanti rapidamente innanzitutto c'è una riappare così non era mai apparsa prima la parola speranza anche se Levi la definisce un sentimento assurdo contrario alla logica però ammette di avere una speranza cosa che prima non aveva succedono dei fatti succede che all'interno del racconto siamo nel momento in cui i regionieri sanno che i russi stanno per arrivare però questo racconto c'era anche prima non era creduto poi qualcosa cambia e quindi sopraggiunge questa speranza riappare la parola domani domani è il futuro all'inizio questo domani sembra inerte il domani che sarà come oggi poi però c'è qualche incertezza cioè di fronte alla negazione del domani si paventa l'ipotesi che il domani possa non essere del tutto scritto cioè c'è una probabilità che seppur minima rappresenta un'apertura in quelle condizioni più avanti andiamo e vediamo che il romanzo se questo è un uomo apre il suo spazio a quella che Steiner definisce la grammatica della futurità come li vediamo compare il futuro il futuro remoto linguisticamente non è prossimo i russi verranno dopo se ritorneremo sì certamente faremo tutto quanto possibile per lui stava per accadere qualcosa di grande e di nuovo si sentiva finalmente intorno a una forza che non era quella della Germania si sentiva scricchiolare tutto quel mondo maledetto vedete che le pagine sono in progressione verso la fine in quell'ora il ricordo dei salvamenti biblici nelle avversità estreme passò come un vento per tutti gli animi io pensavo che la vita fuori era bella e sarebbe ancora stata bella e sarebbe stato veramente un peccato lasciarsi sommergere adesso e poi il 23 gennaio era così per la prima volta dal giorno del mio arresto mi trovavo libero senza custodi armati senza reticolati fra me e la mia famiglia nessuno sarebbe più morto di fame allora perché probabilmente è prevedibile che ci sia in concomitanza della liberazione una speranza il problema è il canto di Ulisse quando Levi scrive il canto di Ulisse scusatemi se questo è un uomo la struttura quindi la composizione dei capitoli non è una composizione che segue la genesi di scrittura lui dirà non so se la composizione lui dirà nella prefazione a se questo è un uomo non segue una successione logica bensì di urgenza e dice pure i capitoli non sono stati scritti così come sono stati concepiti io li ho montati secondo un criterio di urgenza e quindi ragionando su il canto di Ulisse scopriamo e mi sembra diciamo abbastanza credibile questo che il canto di Ulisse abbia non solo quel valore che abbiamo detto prima il valore della conoscenza il principio etico quel ragionamento lì quindi una tregua la memoria ma abbia anche un valore strutturale simbolico quindi un valore metà letterario perché lo mette lì nel momento in cui qualcosa poi va a cambiare e quindi del resto questa grammatica della futurità che compare a partire dal canto di Ulisse fino ad arrivare alla liberazione la ritroviamo in maniera circolare in limine nella poesia che è diciamo la poesia messa in esergo al testo che ha una funzione paratestuale e che si ricollega però allo spirito e al messaggio del testo del di se questo è un uomo e quel considerate se questo è un uomo ha un legame evidente rimarcato anche da altri studiosi soprattutto da calcagno con quel considerate la vostra semenza che dice Dante e quindi vedete che la composizione di se questo è un uomo è un'arquitettura perfetta in cui ogni pezzo sta al suo posto ed ha una funzione simbolica e intenzionale precisa che apre la porta a più livelli di lettura che sono quelli che riguardano Levi Testimone Levi Doppio di Dante Levi Doppio di Ulisse e quindi il canto di Ulisse stesso non è solo il momento di tregua dal naufragio inevitabile perché il mare si richiude infine ma è uno spartiacque all'interno del romanzo uno spartiacque di visione di speranza inconfessabile e di necessità di riempimento di senso e quindi se riavvolgiamo il nastro andiamo a leggere Shema cosa dice Levi in quella poesia meravigliosa meditate considerate ripetete scolpite azioni nel futuro memoria per il futuro e quindi è chiaro che tutto il valore della lettura di del 26esimo canto che offre Levi è molto più di una semplice illuminazione perché a posteriori si legge quanto quella lezione sia reinvestita di senso e sia essenziale per capire il valore di tutto il lavoro di Levi connesso alla memoria e all'idea di futurità che è connaturata biologicamente nell'essere umano e vi ringrazio grazie grazie mille grazie a tutti